Avere un buon portiere è uno dei segreti neppure tanto reconditi per riuscire a vincere, almeno così si dice, ma spesso è la realtà. Ed in tal senso la Lucchese ha avuto la fortuna di trovare, strada facendo, era il 10 ottobre 2019, quindi a campionato, già iniziato da oltre un mese, Jacopo Coletta. Il 28enne estremo difensore romano, stranamente non confermato al Picerno, ne ha promosso in Serie C, si presentò subito con una prestazione sontuosa nel big match col Prato, dove parò tutto e di più. Da lì in poi Coletta ha avuto un rendimento a dir poco eccellente, ma soprattutto ha conferito sicurezza a tutta la difesa della Lucchese, non a caso la meno battuta del campionato. Coletta è stato forse il primo nome sul tarquino del DS Deoma ad essere trascritto sulla colonna alla voce conferme, e per due anni. Guarda, diciamo, la Serie C l'ho già masticata in passato per varie stagioni, però mai da protagonista, per tanti motivi. Finalmente, a 28 anni, ho questa possibilità, credo meritata, perché veramente negli ultimi anni, negli ultimi due campionati vinti in Serie D, ci ho messo veramente tanto impegno e tanto sacrificio. Finalmente ho avuto questa possibilità, farò di tutto per ripagare la fiducia della società. Andremo a affrontare un campionato importante, bello, emozionante, con grandi società, grandi piazze, grandi stati, quindi veramente adesso si fa sul serio e non vedo l'ora di cominciare. La quarantena è stata una cosa devastante, non toccare la palla, adesso quanti mesi sono? Tre, si va verso il quarto mese, è una cosa veramente massacrante. C'è anche da dire che è stata una situazione abbastanza grave, quindi da una parte ci stava. Spero di ricominciare tra poco in sicurezza e tutto tornerà alla normalità. Grazie. 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 Grazie.